Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale Io sono Maxi e questo è un nuovissimo contest ragazzi per utenti di PS3 E come avete letto dal titolo è un contest di Black Ops 3 per PS3 E' un'idea nuova che mi è venuta per gli utenti di PS3 Se avete qualche preferenza e preferite Black Ops 2 fatemelo sapere Allora per partecipare a questo contest dovete iscrivervi ai canali Dovrete comunque adempiere i requisiti che vedete nello schermo Cioè iscrivervi al mio canale, al canale di Orangotango Mods Lasciare un like a questo video insomma E lasciare un partecipo, è abbastanza semplice L'estrazione avverrà tramite un programma online la prossima settimana ragazzi Andremo ad estrarre 3 account moddati Quindi ricordatevi 3 account moddati per Black Ops 3 PS3 lo specifico in maniera tale che nessuno lasci, parteci Poi magari è un utente di PS4 perché è già successo Ragazzi vi dico una cosa Lasciate il canale aperto in maniera tale che io possa verificare le vostre iscrizioni Altrimenti non vincerete Dovete lasciare il canale pubblico Con le iscrizioni pubbliche e i video piaciuti pubblici In maniera tale che io vado a vedere chi è iscritto Chi condivide i video E giustamente vincerà chi avrà condiviso il video Sarà iscritto al canale e cazzi e mazzi Insomma ragazzi questi sono i requisiti Sono abbastanza semplici Mi raccomando partecipare Scrivete ovviamente un partecipo come ho già detto Detto questo il video finisce qui Un saluto a tutti e al prossimo video Ciao a tutti 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 Ciao a tutti